Buongiorno carissimi amici e bentrovati con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. A farvi compagnia oggi ci sono io, Martina Reolone, siamo a venerdì 11 giugno. Andremo insieme a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Cominciamo oggi con il gazzettino. Parliamo dal titolone che è presente sull'edizione del Nord-Est. Veneto così cambia la sanità, si legge approvato il piano post pandemia dai test in spiaggia alle quarantene, le nuove regole, ospedali, Zaia dice, sia le visite ai parenti, linee guida per tutte le urs, il nodo delle case di riposo. Ora che il Veneto è zona bianca ha anche un nuovo piano di sanità pubblica. Il documento è stato approvato dalla giunta regionale, documento che fornisce le indicazioni aggiornate su tamponi e screening contro il coronavirus, tracciamento dei contatti, attività dei dipartimenti di prevenzione delle strutture sociosanitarie e territoriali. E all'argomento è dedicata pagina 2 dell'edizione del Nord-Est con un articolo realizzato per punti in cui si spiegano appunto quelli che sono, quello che accadrà adesso nei prossimi mesi. Dalla quarantena ai test in spiaggia, ecco le nuove regole, si legge nel titolone. Per quanto riguarda gli obiettivi, il nuovo piano regionale di sanità pubblica si pone quattro obiettivi. Il primo è quello di monitorare la circolazione del coronavirus e delle sue varianti. Secondo, aggiornare le indicazioni sull'uso dei tamponi con l'introduzione dei test salivari e di quelli in autosomministrazione. Terzo, rafforzare il tracciamento dei contatti allargando i cerchi dell'indagine epidemiologica. E quarto, proseguire la campagna vaccinale anti-Covid. Per quanto riguarda lo screening, controlli sanitari anche immunizzati. Continua lo screening negli ospedali e nelle case di riposo. Cambiano però le prescrizioni sulla frequenza del test periodico a cui vanno sottoposti i sanitari. Gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali, gli assistenti dei disabili. I controlli verranno mantenuti per estrema cautela anche per i soggetti vaccinati. Negli ospedali e nelle case di riposo, diagnosi ogni 70-30 giorni sugli addetti. Per il personale sanitario e non degli ospedali e delle case di riposo, nonché per gli addetti all'assistenza continuativa, il tampone viene eseguito ogni 30 giorni se il soggetto è vaccinato, ma ogni 7 giorni se non è immunizzato. Nel caso degli ospiti delle strutture residenziali, invece, il test viene effettuato ogni 20 giorni a fronte del vaccino, ma ogni 7 giorni se la persona non ha ricevuto l'iniezione. Per quanto riguarda gli asintomatici, caccia i positivi pure negli eventi. Viene potenziata la ricerca dei positivi asintomatici. Sarà allorgetta l'offerta di screening dedicata a gruppi target di popolazione, come per esempio le persone coinvolte nelle attività dei servizi educativi e ricreativi per minori, ma anche i partecipanti a particolari eventi e i soggetti presenti nei contesti ricreativi e di socializzazione. Andiamo avanti, non stiamo a leggere tutte, poi per chi volesse approfondire siamo a pagina 2 dell'edizione del Nord-Est del Gazzettino. I fai-da-te autodiagnosi, c'è il progetto, ora che il tampone fai-da-te è in commercio con la marchiatura CE, i Veneto si candida a un progetto pilota per il suo utilizzo. La Regione ha inviato al Ministero della Salute una proposta che punta a coinvolgere gli organizzatori di eventi e le aziende del turismo nell'autosomministrazione dei test. E poi ancora, l'isolamento, tornano i 10 giorni con il molecolare. Per i contagiati, anche in caso di variante, l'isolamento fiduciario torna a 10 giorni, che salgono a 21 per i positivi a lungo termine, di cui 21 per i positivi a lungo termine si intende per le persone che faticano a negativizzarsi, ad avere il tampone negativo. Il test di negativizzazione può essere antigenico o molecolare se l'infezione è stata causata da un virus normale o dalla variante inglese, mentre deve essere molecolare in presenza delle altre varianti. Così ha deciso il piano di sanità del Veneto. Il nuovo piano di sanità approvato dalla Giunta è appunto il quarto piano. Russo e Lanzarine dicono bassa circolazione, ma l'attenzione resta alta. Chiudiamo per un po' la parentesi coronavirus, andiamo alla prima del gazzettino di Belluno. Il titolone è dedicato alle frane pericolose, 3 milioni all'anno. Dopo vai alle situazioni peggiorate. Nel 2020 la provincia è stata costretta a continui e costosi interventi di emergenza. Nel 2021, già stanziata la stessa somma per 16 progetti, Bortoluzzi, le esigenze sono superiori, ma manca il personale. Questa è la notizia con cui apre. C'è un lungo articolo a pagina 2 a cura di Federica Fante. La foto di copertina è dedicata a Moreno Pesce, che parteciperà al trail Zoldano, la corsa in montagna. Dolomiti Extreme, ma è così inclusiva. Il protagonista del ritorno della Dolomiti Extreme Trail, in mezzo a mille concorrenti di 33 diverse nazioni, la gara si disputerà da stasera a domenica in Zoldo, ci sarà anche Moreno Pesce, campione di sport paralimpici, avventuriero di grande imprese, anche sulle montagne bellunesi. Qui sul gazzettino andremo a leggere anche un altro articolo, uno che riguarda le elezioni in comune di Belluno, il PD Lancia, Visalli e Vignato, andremo a leggere l'articolo di Federica Fante, e poi una brutta notizia, muore insegnante del Galilei Tiziano, che era assente da scuola da alcuni mesi, si tratta della professoressa Roberta Casagrante, insegnante di scienze naturali, nei due indirizzi del liceo Galileo Tiziano. Ed ecco qui l'articolo con cui apre il gazzettino. Frane, urgenze senza fine, 3 milioni di euro all'anno, il costo per la difesa imprevista del suolo, gestito dalla provincia e da capogiro. Il delegato Bortoluzzi si vive costantemente e dovendo gestire le emergenze. L'articolo, come dicevamo, di Federica Fante. Oltre a 3 milioni di euro di opere di somma urgenza su frane del territorio solo nel 2020, altrettanti già nel 2021. Sembra un colabrodo il bellunese dopo vaia e a fare i conti con le continue emergenze, la provincia. Nella relazione di rendiconto 2020 di Palazzo Piloni si contano decine di delibere di variazioni a bilancio sugli smottamenti. Il totale, appunto, ammonta a oltre 3 milioni di euro. Si vive costantemente dovendo gestire le emergenze, ma mancano persone che riescono a stare al passo con i numerosi progetti di recupero e gestione del territorio, spiega il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo, Massimo Bortoluzzi. E poi si parla di uomini e mezzi. Il problema non sta solo nelle risorse economiche, ma soprattutto in quelle umane. Da anni si parla della carenza di organico, ma dal feroce episodio della furia di vaia nell'autunno del 2018, gli eventi meteo straordinari sono diventati ordinaria amministrazione, sottolinea sempre il consigliere delegato. Per quanto riguarda un'altra questione, nel 2019 la provincia iniziò una progettazione per la riorganizzazione interna, con l'idea di utilizzare parte delle risorse da canoni idrici anche per l'assunzione di forze fresche, coinvolgendo nella rete anche la regione. A che punto siamo? Abbiamo avuto diverse interlocuzioni per arrivare a un accordo in modo da poter formalizzare di concetto con la regione l'assunzione di personale con risorse dei canoni idrici, senza incidere sui conti della regione, prosegue Bortoluzzi. Un accordo del genere in una data di scadenza per cui è sempre valido, soprattutto alla luce delle continue necessità di intervento a seguito degli episodi. E per quanto riguarda le mappe delle frane, la mappa che mette in evidenza la fragilità del territorio, basta una pioggia più forte del solito che vengono alla luce nuovi smottamenti piccoli e grandi, Bortoluzzi ricorda alcuni episodi. Solo nel 2020 si va dei problemi a Carcoi di Rocca Pietore, alle frane in località Sottil, a Livina Longo, a quella di Carfonna Canale, poi in comune di Querovas e via via tutta la provincia con la concentrazione in quello che fu l'epicentro di Vaia che è la zona della Gordino. Cambiamo di nuovo argomento, in questo caso parliamo di elezioni di politica, Vignato e Visalli, Corsa per il Comune, siamo in comune di Belluno, si dell'Assemblea cittadina del Partito Democratico alle primarie spuntano i primi nomi per il municipio. Proposti l'ex amministratore di BIMGSP e l'attuale assessore all'urbanistica della città di Feltre, ne scrive sempre Federica Fante, si alle primarie di coalizione. Lo ha deciso l'Assemblea Comunale del Partito Democratico che si è riunita alle 20.20 mercoledì sera per discutere su come procedono le trattative per le prossime comunali all'interno del centro-sinistra. I due consiglieri comunali, Erika Dalfarre e Paolo Bello, hanno quindi raccontato lo stato delle cose sulle molte riunioni avvenute in vista delle prossime amministrative con la maggioranza, altri hanno parlato di quelle tenute con altri soggetti interessati alla coalizione. C'è stata la proposta formale di Irma Visagli alla quale è seguita quella di un giovane del partito che ha indicato invece Giuseppe Vignato, non iscritto al PD. Roberto De Molinerri, segretario dell'Unione Comunale, ha parlato di un'Assemblea che è stata positiva. Essa ha provato in toto la relazione che ho presentato sugli incontri avuti con la maggioranza. Da qui in avanti, dice De Molinerri, ci aspettano altri incontri. Il nostro obiettivo ora è affrontare con la maggioranza i temi cruciali della città e iniziare a fare un ragionamento su quale può essere la figura del candidato sindaco. E appunto sono spuntati questi due nomi, Irma Visagli e Giuseppe Vignato. Ecco qui la triste notizia di cui abbiamo parlato prima. Morta la professoressa Casagrande. Era assente da scuola da alcuni mesi ma nessuno immaginava che le sue condizioni di salute fossero così compromesse da portarla alla morte. Ieri invece è mancata mentre era ricoverata a San Martino di Belluno. Se ne è data così la professoressa Roberta Casagrande, insegnante di scienze naturali nei due indirizzi classico scientifico del liceo Galileo Tiziano. La notizia è arrivata nella scuola ieri mattina. Poi verso le 14 il dirigente scolastico Andrea Pozzobon ha avvisato con un comunicato tutto il corpo docente e gli studenti che in questo modo hanno preso della morte della loro collega e insegnante. La professoressa Casagrande era insegnante del Galileo Tiziano già da molti anni. Da tempo tutte le classi di cui era insegnante si concentravano nella sede di via Cavour e qui arrivava ogni mattina provenendo da via Giamosa dove abitava. Da alcuni mesi la sua cattedra era stata affidata ad un supplente e i suoi allunni avevano saputo dei problemi di salute che la affliggevano. Ma ciò nonostante la notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa. La professoressa aveva 64 anni solo 64 anni lascia il marito Ivano Fant i figli Lorenzo Leonardo e la sorella Tiziana già docente di lettere impegnata sino allo scorso anno all'istituto Brustolone. I funerali si svolgeranno sabato pomeriggio alle 14.45 nella chiesa parrocchiale di Salce. L'articolo in questo caso è di Giovanni Santin. Ci spostiamo a Feltre dove per la fase post-Covid il Comune ha messo in campo degli aiuti. I progetti sono stati condivisi da tutti i gruppi presenti a Colle delle Capre e il pacchetto degli interventi prevede un investimento pari a 260.000 euro. Inserimento lavorativo, borse di studio e sostegno degli studenti, sostegno per l'accesso al credito, sosta gratuita nei parcheggi blu del centro per la prima mezz'ora. Sono queste appunto alcune delle iniziative a sostegno di cittadini attività economiche che sono state messe in campo proposte dalla conferenza dei capigruppo di Feltre per il periodo post-Covid. Il Covid qualcosa di positivo lo ha portato. Le forze di maggioranza e minoranza del Comune di Feltre hanno lavorato insieme per cercare di adottare le decisioni migliori per far sì che i cittadini e gli imprenditori del territorio potessero avere degli aiuti concreti. Nelle ultime settimane la conferenza dei capigruppo consigliari ha dato seguito al lavoro svolto lo scorso anno ottenendo alcuni incontri con l'azienda Feltrina le associazioni di categorie e le organizzazioni sindacali locali e provinciali. L'obiettivo è raccogliere il maggior numero di informazioni utili a definire un quadro dello scenario socio-economico che ha colpito Feltre e i suoi concittadini. Tra le misure proposte vi è un progetto di reinserimento lavorativo che verrà strutturato in collaborazione con l'azienda Feltrina per i servizi alla persona e che vedrà come destinatari i lavoratori che hanno perso l'occupazione. Per questa iniziativa è stato stanziato un fondo di 100.000 euro. Poi ancora per quanto riguarda le imprese in collaborazione con Ascom e Confartigianato e su proposta dell'assessore Irma Bisalli sarà proposto un programma di sostegno per l'accesso al credito da parte delle attività commerciali e artigianali attraverso il sistema Confidi. Si tratta di un primo pacchetto di interventi dice la conferenza dei capi gruppo e il presidente del consiglio comunale Manuel Sacchetti in una seconda fase che possiamo ipotizzare in autunno faremo una valutazione complessiva delle misure adottate anche in rapporto all'andamento dell'emergenza sanitaria. Ci spostiamo prima di chiudere il gazzettino in Cadore in questo caso a Tai dove c'è la notizia dell'ultimazione della maxirotatoria avanti con la variante di Tai. Il sindaco dopo aver rimarcato la lentezza del cantiere ora esulta e ringrazia la ditta. A Pieve si apre la procedura di esproprio per realizzare la circonvallazione. Anas l'articolo è di Giuditta Bolzonello la rotatoria di Borca che rientra nei lavori di miglioramento della statale di Alemania nell'ambito del progetto Cortina 2021 è addirittura d'arrivo. In questi giorni si è iniziata la posa dell'asfalto operazione che sarà completata entro la settimana. Poi si procederà con la segnaletica orizzontale con la sistemazione dell'aiuole a darle notizia al sindaco Bortolo Sala che non avendo mancato di segnalare le recenti criticità ora non manca di ringraziare la ditta che appunto sta realizzando i lavori. Il cantiere era rimasto fermo abbandonato da inizio aprile sollevando l'ira del sindaco che si era rivolto ad Anas la rotatoria è infatti l'unica opera prevista per Borca nel vasto programma di sistemazione della statale un punto strategico e pericoloso. Guardando più in generale fronte dei lavori per il miglioramento della statale è di ieri la pubblicazione da parte di Anas dell'avviso di procedimento ai fini dell'approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità relativo alle aree interessate dalla variante dell'Alemagna nel superamento dell'abitato di Tai di Cadore. Tutti gli atti relativi al progetto dell'opera sono disponibili per i soggetti interessati negli uffici del comune di Pieve. Saranno visionabili sullo suo appuntamento da lunedì al venerdì nell'orario di apertura degli uffici per 30 giorni. Gli interessati privati cittadini ma anche enti possono inoltrare le osservazioni responsabili del procedimento presso l'ufficio spropri di Anas che le valuterà qualora pertinenti. E come anticipato ci spostiamo ora al Corriere delle Alpi che apre con una notizia che riguarda i vaccini il rebus di AstraZeneca a Zaya 200.000 fiale ferme si legge nel titolone il Veneto ha scelto la linea prudente indicata dall'AIFA il governatore AstraZeneca solo per gli anni 60. Il comitato tecnico scientifico non si pronuncia sugli open day per i giovanissimi il ministro Speranza dice vanno fermati e andremo a brevissimo a leggere l'articolo. Per quanto riguarda sempre la sanità l'Ulss assume 38 infermieri saranno prestati alle case di riposo c'è un articolo a pagina 5 ancora elezioni 2022 il PD comunale apre agli alleati primari e solo di coalizione abbiamo letto prima l'articolo infiltrano i primi nomi qui l'articolo dice cose un po' diverse anche in nome di Demenic emerge andremo poi a leggere l'articolo di Irene Aliprandi a Feltre mezz'ora senza pagare negli stalli brù del centro è una delle misure di sostegno ai cittadini alle attività economiche pensate dalla conferenza dei capi gruppo è l'articolo che abbiamo letto poco fa sul Corriere delle Alpi sul Gazzettino scusate in Val di Zoldo due ponti da rifare ma il comune non ha soldi ponti a rischio a Val di Zoldo di cui uno da rifare e uno quasi il sindaco ma non abbiamo i soldi e poi ancora la foto di copertina è curiosa quella sul Corriere delle Alpi e si riferisce all'Ibis eremita Luigi 053 che si riposa in consiglio la sua destinazione è una fresca oasi tedesca andremo a leggere poi l'articolo di Francesca Valente a pagina 22 leggiamo appunto la notizia che riguarda la questione del vaccino AstraZeneca Zai a metà dei vaccini è su un binario morto AstraZeneca Johnson & Johnson quasi inutilizzabili il governatore esclude di somministrarli agli under a chi ha meno di 60 anni e spunta l'ipotesi del quarto richiamo illusioni ottiche il magazzino della sanità veneta conta 444.000 vaccini una dotazione rassicurante ma solo in apparenza la metà delle dosi arrivate a AstraZeneca Johnson & Johnson sono su un binario morto recrimina Luca Zaia perché il Veneto non le somministra chi ha meno di 60 anni non dico se è legittimo né critico le regioni che agiscono diversamente mai faccia segnalato un margine di rischio sia pure minimo e noi intendiamo evitarlo per quanto riguarda gli open day non li avremo mai fatti né li faremo quindi questa questa è un po' la notizia che riguarda che riguarda AstraZeneca la regione del Veneto segue la linea la linea prudente come leggevamo leggevamo prima anche in riferimento a quanto a quanto accaduto una ragazza a Genova morta a 18 anni dopo il vaccino e si è creata appunto bufera su AstraZeneca è atteso parere degli scienziati sullo stop della somministrazione di questo vaccino a chi ha meno di 60 anni e la rabbia del governo contro il CTS era necessario bloccare gli open day l'irritazione dell'esecutivo per il silenzio dei tecnici sulle iniziative di profilassi a favore dei giovani nel mirino anche i governatori con una formulazione più stringente di quella adottata due mesi fa dagli esperti due mesi fa gli esperti del CTS accendono questa volta senza se e senza ma il semaforo rosso al vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni e lo stesso parere dovrebbe aprire al richiamo di AstraZeneca con un vaccino diverso sia Pfizer o Moderna questo perché gli studi più recenti dicono che con la seconda dose a RNA messaggero si ottiene una risposta anticorpale persino più efficace di quella che si ha ripetendo l'infusione con il vaccino a vettore virale spiega uno degli scienziati del comitato che ieri a lavori praticamente conclusi è tornato a riunirsi nel pomeriggio quando la tragica morte della diciottenne Camilla Cappena per una trombosi a seno cavernoso verificatasi dopo la somministrazione di AstraZeneca faceva capire che il percorso travagliato di quel vaccino era probabilmente giunto al capolinea per quanto riguarda il territorio della provincia di Belluno ieri è arrivata la notizia che sono state oltre si è arrivati a oltre 150.000 dosi inoculate eseguite anche 200 somministrazioni nel nuovo AB istituito alla palestra di Santo Stefano che sarà attivo ogni venerdì e poi c'è la notizia dell'assunzione di 38 infermieri da parte del LUS Dolomiti infermieri che saranno prestati tra virgolette alle case di riposo arrivano i rinforzi in ospedale ma anche nelle case di riposo della provincia ieri LUS Dolomiti ha proceduto l'assunzione di 38 infermieri a tempo indeterminato attingendolo a graduatoria in esito al concorso gestito da azienda zero per rispondere alle sollecitazioni ai bisogni dei centri di servizio e nell'ottica di rete al momento dell'assunzione nell'azienda sanitaria sarà proposto ai professionisti un'assegnazione temporanea per un periodo di sei mesi prorogabili nelle case di riposo del territorio da tempo infatti gli amministratori delle case di riposo sia gli amministratori che i direttori hanno lanciato un'allarme sulla situazione critica che ci genererà da qui in avanti per la carenza di queste figure professionali e infatti sono diverse le case di riposo che stanno riducendo i posti di letto disponibili nelle loro strutture per conseguire un'adeguata efficiente e competente assistenza ai propri ospiti cambiamo argomento e andiamo alla prima pagina di Belluno dove si parla di mobilità e della conferenza stampa ieri del PD che punta tutto sulla ferroviaria e l'elettrificazione per noi è strategica di meno che l'otto ringraziano l'ex ministro del Rio la sua cura del ferro è stata lungimirante per l'Italia e l'articolo appunto di Paola Dallanese la ferrovia è elettrificata come centro focale di sviluppo del territorio bellunese ma dovrà essere migliorata anche la viabilità sono questi i punti su cui ieri il PD ha puntato l'attenzione in vista dell'oddare inaugurazione della prima tratta ferroviaria elettrificata della provincia un'opera durata tre anni ma che parte dalla lungimiranza dell'allora ministro dei trasporti Graziano del Rio che ha avviato la cosiddetta cura del ferro ha ricordato la segretaria provinciale dei democratici Monica Lotto tutto è partito dal governo di allora e dal ministro del Rio che tra il 2015 e il 2017 ha investito sul ferro ha evidenziato appunto Monica Lotto De Menech pensa anche alla necessità di un collegamento verso nord via Cortina come opzione alternativa alla viabilità ordinaria sia per i passeggeri che per le merci come percorso turistico di Valenza internazionale è necessario ripristinare i collegamenti ferroviari veloci e diretti sulle tratte Roma Cortina e Milano Cortina insiste De Menech e poi ancora nei piani dei democratici c'è anche la cadola mass ferrovia significa anche miglioramento delle stazioni i lavori a quelle di ponte nelle Alpi Calazzo e Feltri sono in corso mentre quella di Belluno entrerà nel bando periferie gli interventi sulla mobilità ferroviaria dimostrano come ormai questo tema si è entrato nell'agenda politica siamo un cambio di mentalità ha sottolineato il vice sindaco di Feltri Alessandro Delbianco intervenendo all'incontro indetto dal PD e si è parlato appunto anche della cadola mass De Molinerra Roberto De Molinerra ha rilanciato il piano che dovrà aprire uno sbocco verso la Gordino e la destra Piave e poi ancora primari ma solo di coalizione il PD alleanza più ampia possibile stiamo parlando delle elezioni amministrative 2022 in comune di Belluno di cui abbiamo letto anche prima sul gazzettino sono emersi anche i nomi e in aggiunta a quello che c'è sul gazzettino sarebbe sbuccato anche il nome di Roger De Menek anche perché nel partito c'è chi vedrebbe bene la sua candidatura e la discussione è ancora agli albori leggevamo che prima i nomi di Irma Visalli e di Giuseppe Vignato cambiando argomento e parlando di cultura spade frammenti lame scoperte a Foggia al Fuccis raccoglie la storia del bellunese ieri c'è stata la presentazione l'anteprima di quella che è la sala degli spadai al museo Fuccis di Belluno oggi e domani l'apertura al pubblico l'articolo di Ivan Ferigo spade spadai un pezzo di storia del bellunese questo intende raccontare l'esposizione permanente della sala degli spadai allestita al secondo piano del museo civico di palazzo Fulcis la rassegna di armi bianche che rientra nel progetto interreg clang spade di leone e aquile sarà aperta al pubblico appunto a partire da domani da sabato 12 giugno andiamo avanti leggiamo questa curiosa notizia che riguarda l'Ibis Luigi 053 riposa in consiglio la sua destinazione la Germania stiamo parlando del progetto Life Biodiversità molti gli esemplari monitorati in questi giorni nel bellunese da Orbetello si dirigono verso il fresco del nord Europa l'articolo di Francesca Valente arricchito da fotografie di Tita Lorenza Fain gli Ibis e Remiti sono tornati grazie al progetto europeo Life più Biodiversità che mette in rete partner italiani austriaci e tedeschi per introdurre la rarissima specie di uccelli in natura dopo decenni di pressione venatoria che per pochissimo non li ha fatti sparire dalla faccia della terra questi uccelli dal lungo becco arcuato e dal piumaggio ipnotico sono tornati nei cieli bellunesi gli ha immortalati mercoledì mattina in consiglio Tita Lorenza Fain che ha messo il tantam che ha acceso il tantam mediatico stando ai dati raccolti dei ricercatori coinvolti nel programma un esemplare sicuramente Luigi 053 nome maschile per una femmina di 7 anni precisa Cesare Zaborra direttore scientifico del parco naturali viva di Bussolengo partner italiano del progetto si tratta di un esemplare di generazione F1 ossia cresciuta dai genitori biologici dopo essere stata in una colonia tedesca e appunto in questo momento sta riposando come si diceva in consiglio prima di avviare la sua destinazione verso la Germania il caso in questo caso siamo nel feltrino scusate gioco di parole un cucciolo di cinghiale a spasso per il centro un primo avvistamento nella mattina in via Folli in serata i vigili del fuoco l'hanno individuato davanti all'istituto Canossiano l'articolo di Stefano De Barba un cinghialetto a spasso in città alle porte del centro urbano è successo ieri nella zona della stazione di via Folli davanti alla Lidl e l'istituto Canossiano siamo a Feltre ha scorrazzato tutto il giorno in zona poi ci hanno pensato i vigili del fuoco ad allontanarlo dall'asfalto e dal rischio di finire travolto da una macchina e ci sono anche le fotografie che testimoniano la presenza del cucciolo di cinghiale in pieno centro andiamo avanti leggiamo ancora un paio qualche articolo prima di chiudere l'appuntamento di oggi ci fermiamo in questo caso alla notizia che riguarda l'alpinista precipitato per 50 metri e che è grave l'uomo è ricoverato in proniosi riservata all'ospedale Caffoncello di Treviso dove è stato trasportato con l'elicottero l'articolo è di Gigi Sosso un alpinista tedesco è ricoverato appunto in gravi condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso dopo essere caduto dalla torre piccola di Falzarego le condizioni del 53enne sono giudicate gravi dai medici perché ha sofferto un pesante politrauma che ha coinvolto tutte le parti del corpo ma fino a ieri sera non era dato in pericolo di vita e questo è confortante bisognerà verificare come avrà passato la notte e reagito alle prime terapie in giornata si capirà anche come procedere e se provvedere o meno degli interventi chirurgici la prognosi è riservata l'incidente appunto che si è verificato nella giornata di ieri e con questo articolo il tempo a nostra disposizione è terminato vi aspettiamo come sempre domattina alle 8.30 sulle frequenze di Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo a tutti un buon venerdì e un buonissimo fine settimana grazie per l'ascolto come sempre e ci rivediamo prestissimo grazie arrivederci